quest'oggi venerdì 23 settembre è andata in scena presso gli studi elios di roma una nuova registrazione di uomini e donne il dating show di maria de filippi in attesa di vedere quello che canale 5 manderà effettivamente in onda ecco per i più impazienti tutte le anticipazioni su quello che è successo in puntata riportate in anteprima da uomini e donne classic over stando alle talpe che erano presenti alle registrazioni sembrerebbe proprio che nella puntata in onda breve il pubblico assisterà ad un confronto fra roberta e alessandro i due instaureranno un lungo dibattito per cercare di trovare una quadra nel loro rapporto la lunga chiacchiera porterà ad una conclusione dopo tutto positiva dopo avere interrotto bruscamente la loro conoscenza reciproca i due decideranno di tornare a frequentarsi per il resto niente da fare per la dama per eccellenza della trasmissione gemma galgani che prenderà la decisione di mandare via il corteggiatore sceso per lei nella scorsa registrazione prima che possa ritrovare l'uomo della sua vita dunque sembra proprio che bisognerà avere ancora molta pazienza un'altra delle anticipazioni più succose di questa nuova puntata di uomini e donne riguarda ida platano che a quanto sembra accettato di uscire con uno dei cavalieri del parterre ida e il suo spasimante hanno dunque iniziato a conoscersi con la speranza che fra di loro un giorno possa sbocciare l'amore inoltre sono trapelate informazioni che riguardano un'uscita che ha visto protagonisti il nuovo tronista di questa edizione federico nicotera e carola dopo l'esterna in ogni caso i due si sono purtroppo resi conto di non essere fatti l'uno per ciliegina sulla torta infine è stata la dichiarazione di uno dei corteggiatori alessio nei confronti della nuova tronista la vigna mauro il ragazzo in ogni caso le sta tentando davvero di tutte e non sembra avere le idee troppo chiare in precedenza infatti alessio aveva chiesto alla produzione di organizzare un'esterna anche con l'altra tronista federica versano scopriremo presto